partiamo immediatamente da quelle che sono alcuni degli aspetti più importanti della di questo settore e quindi della condivisione del patrimonio culturale nell'ambito della condivisione delle risorse culturali allora partiamo immediatamente sentiamo spesso parlare di intero e di interoperabilità ma in primo luogo proviamo a porci qualche domanda per capire effettivamente di che cosa stiamo parlando allora tre domande a cui vorrei dare la risposta che cos'è l'interoperabilità perché essere interoperabili e infine come realizzare l'interoperabilità per quanto riguarda l'aspetto che cos'è l'interoperabilità io partirei da quella che è una definizione che si trova su wikipedia perché la ritengo davvero molto valida obiettivo dell'interoperabilità e dunque facilitare l'interazione fra sistemi differenti nonché lo scambio e il riutilizzo delle informazioni anche fra sistemi informativi non omogenei allora perché voglio essere interoperabile assolutamente per una scelta di campo ovvero quello che è un po il compito istituzionale di tutte le istituzioni che lavorano nel campo della cultura per seguire quelli che sono gli scopi per cui la conservazione e la promozione la valorizzazione tutti questi aspetti del patrimonio culturale sono così importanti un secondo aspetto è per aumentare la visibilità dei propri contenuti ovviamente se io ho investito una certa quantità di tempo di risorse anche di denaro per poter sviluppare il mio sistema informativo è chiaro che a un certo punto ho il desiderio che lo veda il maggior numero possibile di persone immaginiamo quindi la situazione che abbiamo prefigurato ho un sistema informativo l'ho messo online e a disposizione del pubblico a questo punto mi dicono che ne dici di essere interoperabile con questo sistema piuttosto che con quell'altro e allora alcune volte ci sono delle resistenze molto forti nel condividere il proprio patrimonio ma la domanda che io faccio perché no cioè quali sarebbero le motivazioni se tu sei andato in onda se tu sei disponibile online se hai messo a disposizione del pubblico queste tue informazioni questo tuo patrimonio culturale digitalizzato perché non decidili allora farlo conoscere alla più ampia e basta platea possibile infine come realizzare l'interoperabilità ci sono diverse possibilità oggi per poter essere interoperabili con i sistemi informativi ovviamente ognuno di essi ha le sue proprie specificità io qui le o più utilizzate forse anche le migliori possibilità di interoperabilità andiamo quindi a cercare di capire qual è il ruolo degli aggregatori allora gli aggregatori hanno potremmo dire di base due scopi due obiettivi principali da un lato e mettere insieme dati provenienti da piattaforme diverse il secondo aspetto è quello di essere in grado di presentare le informazioni per far trovare agli utenti ciò che cercano dunque quello che diventa il compito principale dell'aggregatore è di innanzitutto cercare creare un profilo applicativo che consenta di mettere insieme tutta una serie di informazioni che consentono agli utenti di trovare immediatamente quello che stanno cercando e da un lato di non perdere quello che è il valore nei limiti del possibile in questo caso bisogna dirlo perché non è non si può pensare di trasportare tutti questi modelli all'interno di un unico metamodello e quindi essere in grado a quel punto di mettere insieme tutte quelle informazioni definire quel set minimo di informazioni che ci servono per poter avere e poter realizzare l'interoperabilità dunque questo era un po il flusso di lavoro che noi abbiamo e per poter soddisfare queste esigenze abbiamo dato vita al profilo pico il pico application profile tutto questo però si scontra inevitabilmente con quello che è non uno dei temi caldi ma forse il tema più caldo da sempre in particolar modo per quanto riguarda l'italia ovvero le licenze d'uso delle risorse che noi andiamo ad arvestare acquisire o che intendiamo inviare alle diverse piattaforme che praticano quindi le diverse piattaforme interoperabili in quest'ultima pagina troverete tutta una serie di link che vi consentiranno poi di poter successivamente avere la possibilità appunto di approfondire alcune delle tematiche di cui abbiamo parlato in un progetto di digitalizzazione di manoscritti ottocenteschi quale dovrebbe essere la licenza si tratta di un tipo di licenza che fa parte dei cosiddetti right statements che sono questi 13 tipi di diritto che vanno un po a coprire quelle che sono le lacune della creative commons significa non c'è copyright su questo tipo di opera attenzione però non puoi liberamente riutilizzare questa risorsa perché ci sono altre restrizioni legali note questo tipo di licenze è particolarmente utile per quelle che sono le risorse che sono al di fuori del diritto d'autore ma che appartengono da un'ente pubblico territoriale